Una nuova e importante campagna di sensibilizzazione a difesa delle donne in difficoltà è stata lanciata nella città di Salerno. L'iniziativa, promossa dal consigliere comunale Arturo Iannelli, è del tutto particolare. Su tutti i biglietti di Salerno Mobilità Ticket utilizzati per effettuare il pagamento del parcheggio, sarà ora presente il numero 1522, numero antiviolenza e stalking. Il numero è un servizio pubblico, gratuito e attivo 24 ore su 24, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che accoglie, grazie ad operatrici specializzate, le richieste di aiuto e di sostegno di donne vittime di stalking e di ogni tipo di violenza. Abbiamo ascoltato Elisa Ercoli, presidente dell'Associazione Differenza Donna APS e ONG, che gestisce il numero di pubblica utilità 1522. 1522 è il numero nazionale antiviolenza e stalking della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, che gestiamo come differenza donna. Un numero che si può contattare sia tramite chat, tramite app, che tramite telefono. Noi siamo aperte 24 ore su 24, 365 giorni. Garantiamo a chiunque ci voglia contattare, totale, anonimato e riservatezza. Questo è un elemento molto importante. Possiamo sostenere tutte le donne che stanno subendo una situazione di violenza, prima di tutto per conoscere il rischio che stanno vivendo e quindi avere una percezione reale del rischio. Poi possono essere indirizzate sui centri antiviolenza territoriali, e questo è uno strumento davvero importante, avere consulenze legali, psicologiche, e assolutamente diventare sempre più consapevoli della situazione che si sta vivendo, ma soprattutto di quali sono le modalità per uscirne in maniera protetta. Non vogliamo più femminicidi? Chiamate il 1522. Non vogliamo più situazioni in cui le donne si sentano isolate? Chiamate il 1522, contattate il 1522. E questa iniziativa di Salerno è un ulteriore modo per dare vera accessibilità a questo numero, che va sempre più conosciuto, sempre più diffuso, sempre più usato, perché le donne possano veramente uscire dalle situazioni di violenza e divenire davvero libere e piene cittadine.